Grande fratello, ufficiale, il cast con veri VIP. L'attesa è finita, e il gossip impazza. Ecco i nomi bollenti dei nuovi inquilini pronti a infiammare la casa più spiata d'Italia dall'autunno 2024. Alfonso Signorini si prepara a scatenare il caos su Canale 5, con un parterre di vipponi che promette scintille. In pole position troviamo Jonas Verami, l'ex tronista di Uomini e Donne dal fascino latino, che ha fatto sognare milioni di fan nei panni di quand'è il segreto. Sarà lui a far perdere la testa alle concorrenti? Ma le sorprese non finiscono qui. Il mitico Jonathan Kashanian, vincitore del GF 2004, si prepara a un clamoroso ritorno. Vent'anni dopo, il re del gossip e della moda è pronto a conquistare di nuovo il pubblico con il suo stile inconfondibile. Scintille in vista con l'arrivo di Vera Gemma, che ha già infiammato l'isola dei famosi. La sua presenza promette di alzare la temperatura nella casa di Cinecittà. Non manca la quota comedi, con Nadia Rinaldi, l'attrice comica che finalmente ha detto sia il grande fratello dopo anni di corteggiamento. La sua verve sarà la ciliegina sulla torta di questa edizione. Il colpo di scena Garancia Othier, la presunta fiamma di Fedez Post Ferragni, potrebbe varcare la soglia della Porta Rossa. Tutti sono in trepidante attesa di scoprire i segreti piccanti della misteriosa francese che ha fatto girare la testa al cantante. Ma le sorprese non finiscono qui, si vocifera dell'ingresso di altri nomi bomba, come Alex Gadea, Giulia Delellis e Claudio Sona. E con la coppia Signorini Blasi al timone, questa edizione si preannuncia già leggendaria. Chi sopravviverà a questo turbine di emozioni, drammi e colpi di scena? Il conto alla rovescia è iniziato. Che ne pensate di questi nomi? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.